E' la possibilità di portare la squadra all'avversario tramite proiezioni. Le elezioni vengono svolte presso la Winters Fitness di Bampolieri, la squadra di Cicacena, la squadra di Funga, venuta dai maestri Conti Claudio e Gianmarco Cosentino, nello scorso anno di Fungo sono stati messiati a condizioni che ha portato a qualificarsi e poi partecipare alle finali nazionali per un rischio all'anno scorso e giugno. La squadra, composta da soli sei atleti, è riuscita a vincere nelle categorie da un numero del rospero, se questa la pronuncia, è tradizionale. Un totale di 11 medagli di oro, 6 medagli di argento, 6 medagli di proiezione, a cui si aggiunge il titolo di campione italiano di Sanna Under, 14, 56 i tuoi anni. La squadra era composta da i atleti di Salvatore Castolina, eccolo qua, passavanti, Oliveri Niccol, Greco Mattia, Rossitto Serena, Grasso Kenin e Basso Rodetto. Io per tutti questi farei un applauso per tutti.